In studio, Veronica Puglisi. Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova edizione di MTG, un colpo alla sanità siciliana. Con questo claim sono scesi oggi in piazza Palermo i sindacati e non solo per la manifestazione regionale organizzata dalla CGL Sicilia contro l'autonomia differenziata. I sindacati chiedono un piano straordinario di assunzioni, la stabilizzazione del personale precario, la riqualificazione di RSA, il rafforzamento della rete di emergenza-urgenza e la sicurezza del personale sanitario. C'era anche il PD Sicilia in piazza questa mattina al fianco della CGL per la manifestazione regionale a Palermo per rilanciare il diritto alla salute e del servizio sanitario pubblico in Sicilia. Sono 30.000 le persone in attesa di ricovere e 55.000 quelle che aspettano una visita diagnostica. La sanità che non funziona è una delle più dirette ed evidenti disfunzioni che la scellerata autonomia differenziata voluta dal governo Meloni nel silenzio del presidente della regione siciliana, Renato Schifani, produrrà danni dei cittadini siciliani. A dirlo sono Sergio Lima, componente della segreteria regionale e membro della direzione nazionale, Alfredo Rizzo, coordinatore della segreteria regionale del PD, a margine della manifestazione organizzata dalla CGL che dopo il concentramento dinanzi al Parlamento siciliano si è spostato a Palazzo d'Orlean, sede del governo regionale. Oggi Schifani, silente, mentre il governo di centrodestra approvava la norma che condanna il sud alla retratezza a tutto vantaggio del nord, aggiungono Lima e Rizzo, ritrova la parola per indignarsi contro le infinite liste d'attese, applaudendo all'intervento del ministro della Salute. Ben tornato tra noi, concludono i vertici del PD al presidente della regione, era però meglio se continuava a mantenere un colpevole silenzio piuttosto che commentare come un qualunque turista di passaggio sull'isola. In piazza questa mattina anche Feder Consumatori regionale e Lega Ambiente Sicilia, nella piattaforma di CGL, FPSP, un piano straordinario di assunzione e la stabilizzazione del personale precario, la riqualificazione di RSA e CTA, il rafforzamento della rete di emergenza urgenza, l'integrazione socio-sanitaria e la sicurezza del personale sanitario. Sono oltre 800.000 siciliani che ogni anno decidono di non curarsi o di farlo altrove, sono 30.000 le persone in attesa di ricovero e 55.000 quelle che aspettano una visita diagnostica. E come detto la manifestazione organizzata dalla CGL Sicilia ha visto una massiccia partecipazione anche di precari in piazza per chiedere la stabilizzazione. Con l'autonomia differenziata la Sicilia rischia un arretramento e quanto detto da Alfio Mannino, segretario generale della CGL Sicilia. Una manifestazione contro le inadempienze del governo regionale, quanto detto dal segretario generale della CGL Sicilia, Alfio Mannino, questa mattina in piazza Palermo per la manifestazione regionale contro l'autonomia differenziata che sottrarà alla Sicilia 1,3 miliardi di euro. Questo significherà meno servizi, meno sanità, meno istruzione, meno infrastrutture. La Sicilia rischia un arretramento e la crescita della forbice rispetto al resto del paese. Noi intendiamo porci con tutti i mezzi a nostra disposizione a questa misura, ha detto Mannino. Oggi abbiamo 85.000 persone in attesa tra esami diagnostici e ricovero ospedalieri. E questo determina una difficoltà del sistema sanitario, con pronto soccorsi che sono sempre più in sofferenza, carenza di personale. E se a questo aggiungiamo il tema dell'autonomia differenziata che determina un taglio di un miliardo e tre nei confronti della nostra regione, questo ci fa fortemente preoccupare. Per questo questa iniziativa, questa mobilitazione è la prima che metteremo in campo, perché noi contrasteremo questo disegno in tutti i modi possibili e immaginabili. 800.000 siciliani, denuncia il sindacato, ogni anno rinunciano alle cure. In tanti emigrano verso sistemi sanitari più efficienti di altre regioni e tutta la popolazione si trova di fronte alla tragica evidenza della riduzione delle aspettative di vita in buona salute. In piazza anche tanti precari che chiedono la stabilizzazione. Da 25 anni che sono nel precariato non sono mai entrata nel ruolo perché a quanto pare non ero nel vagone giusto quando facevano le stabilizzazioni. E quindi sono qui per protestare e stabilizzare a chi veramente ne ha diritto e non per amici e parenti. Buone notizie invece per i lavoratori marittimi della Caronte Turist, isole minori. Finalmente dopo la proclamazione dello stato di agitazione, afferma la coordinatrice regionale per la Sicilia, UGL, Mari e Porti, Antonella Di Maio, i lavoratori hanno ricevuto il pagamento dell'ulteriore 30% degli stipendi tramite l'assessorato di riferimento. Confidiamo in una collaborazione sempre più proficua con la regione siciliana onde evitare scandali mediatici. I lavoratori sono stati dirigenti e fin troppo pazienti, ha concluso la Di Maio. Un tavolo di crisi convocato il 20 giugno è assurdo, lo dice il capogruppo all'Ars del PD, Michele Catanzaro, che critica la convocazione della cabina di regia preseduta dal presidente Schifani per lo stato di emergenza idrica nella provincia di Agrigento. Si sta prefigurando, dice, un gravissimo danno d'immagine per la Sicilia e per la provincia di Agrigento. L'emergenza idrica che si registra in tutta la Sicilia con casi drammatici come quelli che accadono in provincia di Agrigento richiedono interventi immediati, non solo manifestazioni di ottimismo e tavoli di crisi convocati il 20 giugno. A dirlo è il capogruppo del PD all'Ars, Michele Catanzaro, dopo che la regione siciliana aveva convocato la cabina di regia per le 15 di oggi a Palazzo d'Orlean, presieduta dal presidente della regione siciliana Renato Schifani per l'emergenza idrica in provincia di Agrigento. La cabina di regia sarà chiamata ad esaminare la situazione attuale, valutare le azioni compiute finora e a programmare gli ulteriori interventi per mitigare l'emergenza in uno dei territori siciliani più colpiti dalla siccità dei primi 20 milioni di euro già stanziati dal governo nazionale. La regione ha destinato ad Agrigento circa 6 milioni per pozzi e condutture. Per il PD un tavolo di crisi convocato il 20 giugno è assurdo, c'è una certezza di cui l'area politica di maggioranza deve prendere atto, quella che i governi di centrodestra che da quasi sette anni hanno in mano le sorti della nostra isola non hanno saputo programmare un piano di emergenza immediato in caso di eventi calamitosi come la siccità. Una regione come la Sicilia ricca di risorse idriche si è fatta trovare impreparata senza un piano di approvvigionamento alternativo in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini e delle aziende. È vero che gli invasi sono vuoti per la carenza di pioggi, ma è anche vero che solo oggi c'è una corsa affannosa a realizzare nuovi pozzi, a rimettere in funzione i dissalatori inutilizzati e in degrado da anni. Già un anno fa si prefigurava un 2024 con poche precipitazioni, ma solo pochi giorni fa sono arrivate alla regione le risorse stanziate dal governo centrale con lo stato di emergenza nazionale e con questi fondi difficilmente si potrà tamponare l'emergenza per quest'estate. Non c'è tempo, conclude Catanzaro, si sta prefigurando un gravissimo danno d'immagine per la Sicilia e per la provincia di Agrigento che con il titolo di Capitale della Cultura 2025 pensava a benefici e ricadute positive per il turismo, per l'agricoltura e per l'intero indotto. Governo regionale ancora una volta approssimativo e lontanissimo dai bisogni dei territori, conclude il PD. E il Codacons Sicilia sta procedendo a diffidare tutti i sindaci dei comuni siciliani esortandoli ad emettere ordinanze urgenti per vietare l'uso dell'acqua potabile per riempire piscine e irrigare giardini. La preoccupante carenza idrica in Sicilia e il perdurare della siccità induce il Codacons a diffidare i sindaci dei comuni siciliani esortandoli ad emettere ordinanze urgenti per vietare l'uso dell'acqua potabile per riempire piscine e irrigare giardini. Ci troviamo dinnanzi ad una crisi idrica senza precedenti, afferma il Codacons, poiché la scarsità di piogge, unitamente all'aumento delle temperature e alla gestione inefficiente delle risorse idriche, quest'anno ha aggravato la situazione che, dice l'avvocato Bruno Messina, richiede interventi tempestivi e decisi per salvaguardare una risorsa vitale sempre più scarsa. Le riserve d'acqua sono ai minimi storici e molti comuni dell'isola, già ad inizio estate, devono fare conti con razionamenti e interruzioni del servizio idrico. In questo contesto, l'uso improprio dell'acqua potabile diventa un problema che va affrontato con misure straordinarie. Con le ordinanze, conclude l'avvocato Messina, vogliamo contribuire a preservare le riserve idriche, garantendo una maggiore disponibilità per tutti i cittadini, sensibilizzando i siciliani sull'importanza della conservazione dell'acqua e sull'urgenza di adottare comportamenti più responsabili. Il Codacons ha anche invitato i sindaci a promuovere campagne informative e volte a facilitare la collaborazione tra istituzioni e cittadini per affrontare una crisi che non può essere risolta senza l'impegno di tutti. E la siccità in Sicilia è così grave che l'autorità di Baccino della Regione ha messo all'ordine del giorno la ripresa dei prelievi idrici da pozzi contaminati da nitrati previa la depurazione delle acque prima del loro utilizzo. Ciò potrà interessare soprattutto le zone turistiche, dove sono attesi oltre 10 milioni di ospiti nel periodo di alta stagione. Lo rende noto in un comunicato l'Ambi, l'Associazione Nazionale dei Consorsi di Baccino. È presumibile che l'acqua rimanente in oltre la metà dei bacini della Sicilia sia di fatto inutilizzabile, spiega Massimo Gargano, direttore generale di Ambi. Quanto alle falde si sono pericolosamente abbassate. Quanto si sta registrando in Sicilia, ma che progressivamente sta risalendo dal meridione all'Italia centrale, scrive il presidente dell'Ambi Francesco Vincenzi, a caratteristiche peggiori delle scorse grandi siccità del nord. Andiamo adesso alla cronaca. Siracusa, sottoposta agli arresti domiciliari con obbligo del braccialetto elettronico, un imprenditore 56enne per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti di una dipendente della sua azienda. Vittima di violenze sessuali e molestie compiute dal proprio datore di lavoro, a seguito delle quali si era trovata costretta a dimettersi e modificare le proprie abitudini, vivendo in un perdurante stato di ansia. Una condizione che ha portato la vittima, dipendente di un'azienda, a denunciare il proprio datore di lavoro, un 56enne di origini siracusane, nei confronti del quale la polizia di Siracusa ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con obbligo del braccialetto elettronico per violenza sessuale e atti persecutori. Nel corso delle indagini è stato accertato che la donna già da alcuni mesi subiva violenze sessuali da parte dell'uomo, che abusando della sua autorità la richiamava nel proprio ufficio apparentemente per questioni lavorative, per poi molestarla sessualmente, lontano da occhi indiscreti e sotto la minaccia di un imminente licenziamento. Nei giorni in cui la donna non si presentava al lavoro, l'uomo continuava a perseguitarla attraverso l'invio di numerosi messaggi di carattere personale sul telefono aziendale in cui ha dirato non perdeva occasione per umiliarla e minacciarla di licenziamento con fare volgare e autoritario, ben consapevole del bisogno economico della stessa. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti numerosi elementi a riscontro delle dichiarazioni della donna, escussi numerosi soggetti informati sui fatti e trascritti sbariati contenuti informatici che si sono rilevati tutti determinanti per la contestazione delle accuse a carico dell'uomo. Ha deciso di sporgere denuncia nei confronti del figlio, un pregiudicato di 41 anni che da mesi picchiava e aggrediva non solo la madre ma anche lo zio che viveva con loro. È successo a Catania. Avrebbe picchiato la madre, 76enne, sferrandole alcuni pugni fino a farla cadere a terra. Un pregiudicato di 41 anni, originario di Palermo ma residente a Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. A difendere la madre era intervenuto anche lo zio, colpito anche lui con un pugno alla testa. La donna ha avuto il coraggio di denunciare il figlio che negli ultimi sei mesi era diventato aggressivo, prima solo verbalmente, poi anche fisicamente, anche nei confronti del fratello che abita con loro. L'ultima lita in ordine di tempo sarebbe nata perché il 41enne aveva lasciato la porta aperta dell'abitazione, probabilmente per consentire l'ingresso in casa di un amico. Non appena la madre però aveva chiuso la porta, l'uomo è andato su tutte le furie. Aggressioni allo zio e alle madre, dunque, che andavano avanti da mesi causando ansia e paura. La donna, nonostante segni di percorsi al viso e alle braccia, ha comunque rifiutato le cure dei sanitari. Il fratello invece presentava evidenti lividi al braccio destro e sinistro e al costato che nei giorni precedenti lo avevano costretto a ricorrere a cure mediche. Dopo gli accertamenti e la formalizzazione delle denunce, il 41enne, pregiudicato, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Dell'arresto è stato informato il PM di turno che ha disposto il trasferimento in carcere presso la casa circondariale di Piazza Lanza. I carabinieri della compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre palermitani, due e 39enni e un 27enne, accusati di aver rapinato due liceali milanesi di 18 anni nel settembre del 2023. Gli indagati avrebbero chiesto ai due una sigaretta prima di costringerli a recarsi a uno sportello Bancomat per prelevare sotto minaccia 450 euro. L'indagine condotta dai militari della stazione di Piazza Marina ha consentito, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della banca, di risalire agli autori del colpo. Nel corso del fine settimana, intensificati i controlli in provincia di Ragusa nell'ambito dei più ampi servizi predisposti in provincia sulla base delle direttive del questore Vincenzo Trombadore. I servizi effettuati con il convolgimento dell'arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e dei corpi di polizia locale hanno interessato le vie dei centri storici di Modica, Sciclia e Ispica. A Modica e in via Grimaldi effettuate perquisizione la ricerca di stupefacenti, segnalati alla prefettura di Ragusa ben cinque assuntori, sequestrati più dosi di hashish e marijuana, elevati dieci verbali di contestazioni per infrazione al codice della strada. I controlli hanno riguardato anche il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento, controllati quattro locali a Scicli, quattro a Ispica, le cui posizioni sono al vaglio dell'ufficio di polizia amministrativa. Nel solo fine settimana sono state identificate 400 persone e controllati 160 veicoli. Denunciato a San Biagio Platano un impensionato di 67 anni per abbandono di rifiuti speciali, i militari hanno appurato che l'uomo aveva organizzato una vera e propria raccolta porta a porta di rifiuti speciali, quali carcasse di frigoriferi, condizionatori, imballaggi in plastica. I rifiuti venivano poi accatastati all'interno di due aree di sua proprietà, una delle quali sottoposta a vincolo idrogeologico. Le due aree sono state sottoposte a sequestro e in corso di quantificazione il danno ambientale arrecato. Si celebra oggi la giornata mondiale del rifugiato. Abbiamo incontrato Mohamed che da nove anni vive in Italia e è arrivato alla Sierra Leone da dove è scappato. Sono scappato dal paese e sono arrivato qua in Italia, mi hanno accolto bene e sono riconosciuto con lo stato di rifugiato. Lui è Mohamed, ha 26 anni, vive a Catania da nove anni ed è un rifugiato politico. Originario del Sierra Leone è arrivato in Italia dopo mesi di viaggio in imbarcazioni di fortuna. Oggi è stato protagonista insieme ad altre persone all'incontro che ha organizzato in occasione la giornata mondiale del rifugiato la comunità di Sant'Egidio a Catania, un'occasione per denunciare come nel Mediterraneo al 1990 oggi sono morte oltre 66.000 persone, donne, uomini, bambini che scappavano da situazioni di guerra e persecuzioni, di povertà. Il mio padre mi diceva di scappare nel paese perché non voleva che muoio io e sono l'unico figlio in cui quello che lui ha e quindi lui ha scelto di morire invece di farmi morire quindi è di andare al paese con la mia mamma e poi lasciando le mie sorelle, lasciando il paese dove sono nato, dove sono cresciuto, dove conosco quasi tutti quindi è una cosa molto facile, è difficile per me anche lasciando anche il mio studio, quasi quelle che studiavo quando ero al paese. La giornata del rifugiato per il 2024 punta l'attenzione sulla solidarietà e l'inclusione, valori che Mohamed dice di aver trovato in Italia a Catania. Non dobbiamo discriminare nessuno perché è una cosa fondamentale, sappiamo tutta la storia anche quella dell'Europa, come gli italiani andavano con le barche in America per chiedere per asilo, quindi l'accoglienza deve essere una cosa fondamentale, anche un diritto quello che posso dire morale. Catania, la Sicilia è il posto giusto per l'integrazione, io mi sono sentito accolto, faccio l'esempio, da quando sono arrivato qua in Italia, anche a Milano non ci sono mai stato, sono stato solo a Roma con la comunità di Sant'Egirio, altre città qua in Italia non ci sono mai stato perché mi piace Catania e sono stato accolto benissimo e per questo sto qui vivo e lavoro. E ti sei fatto anche una famiglia perché hai una compagna e hai un figlio? Sì, ho fatto una famiglia, una compagna italiana e il figlio è italiano anche. Voltiamo adesso pagina. Marina di Ragusa è già nel bel pieno della stagione estiva con turisti e residenti che stanno godendo dei primi bagni complici le bellissime giornate di sole. In questi giorni si sono sollevate delle polemiche per le docce a pagamento, per la carenza dei cassonetti, della spazzatura, ma sono degli interventi su cui già sta lavorando l'amministrazione Cassì. Oggi è stata issata la bandiera blu. Cerimonia di Alza bandiera blu in piazza Torre a Marina di Ragusa la frazione è già presa d'assalto da diversi turisti, dai cittadini che si condono i primi bagni. Ma cosa ne pensano i residenti e i commercianti di questa frazione? Sentiamo anche le loro opinioni. Hanno messo le docce nuove, felicissimi noi. Anche se sono a pagamento? Sì, è meglio che sia a pagamento piuttosto che i bambini si ci giochino per tutta la giornata. Essere braccialetto per accedere alla doccia, quindi il costo di 10 euro? Esatto, di 10 euro che è da 5 e da di 3 euro. Non è per niente un costo a parer mio esagerato. Lamentata la gente che l'ha acquistata? No, allora non lamentata, poi la battutina ogni tanto sì, c'è stata. No, io sono d'accordo. È giusto, anche per limitare lo spreco dell'acqua perché c'è gente che si lava anche giocattoli, non è giusto comunque. che hanno messo le docce a pagamento sì, però non hanno messo in conto che il turista che viene per un giorno non ha come farsi la doccia. È normale che ci sia l'obbligo di pagare qualcosa per l'utilizzo dell'acqua pubblica ma attenzione non per fare cassa perché se pensiamo che la tariffa è di 5 centesimi per 30 secondi di doccia, di acqua è veramente una cifra irrilevante ma il problema è evitare lo spreco. Invitiamo o azzeriamo lo spreco d'acqua dopodiché noi perfezioneremo vediamo come va quest'anno vediamo come reagisce la gente. La spiaggia è misura di bambino? Assolutamente sì. Cosa non va a Marina di Ragusa? Cosa non va? Un po' di ombre in più visto le temperature. Il tempo è bello cordiale la gente mi sto veramente divertendo. hai trovato tutto curato in ordine io penso che sia tutto perfetto e ben pulito molto carina siamo a Ragusa come base bellissima da giovane imprenditore che comunque ha investito su questa frazione cosa chiederebbe l'amministrazione? Un po' di controlli in più la notte è previsto anche quest'anno l'assunzione a tempo determinato per la stagione estiva di oltre 10 unità quindi saranno credo siano 12 o 13 unità che lavoreranno proprio nei mesi estivi quindi questo andrà ad afforzare sicuramente l'attività di presidio delle uomini in divisa che poi è la cosa che conta principalmente la presenza di ciclisti o di persone che vanno sui monopattini nei lungomari negli orari in cui c'è la massima affluenza ecco questo sarà vietato lo diciamo sin d'ora Ci fermiamo c'è la pubblicità a tra poco Ben ritrovati per l'ultima parte del nostro telegiornale rischia di essere sospeso a Catania il servizio MTS CT Mover Una domanda sorge spontanea quando una cosa funziona piace agli utenti ottiene successo è destinata a proseguire o a essere interrotta? La risposta potrebbe sembrare banale ma non sempre è così e capita dunque che si metta a fine alcune volte a iniziative utili come potrebbe accadere con il CT Mover un servizio MTS attivo al settembre 2022 che consente ogni giorno centinaia di lavoratori e la zona industriale di poter arrivare attraverso un muso on demand con orario variabile e percorso flessibile proprio nella zona industriale di Catania senza prendere la macchina basta prenotarsi tramite app il che significa più sicurezza meno traffico e meno emissioni nell'aria si parte al parcheggio Fontana Rossa con passaggio presso la stazione ferroviaria di Fontana Rossa la stazione e le autolinee fino alla zona industriale i lavoratori ne usufruiscono in maniera gratuita adesso che verrà a mancare questo servizio non sappiamo dobbiamo riprendere le macchine e andare a lavorare in zona industriale vi ho visto che siete arrivati in treno quindi evitate proprio l'uso della macchina perché non utilizzare un mezzo pubblico che ti porta fino al lavoro questo servizio è utilissimo serve tantissime aziende della zona industriale e si risparmia perché si paga solo un biglietto di un treno certo si risparmia anche perché facciamo gli abbonamenti e tutto va bene funziona ecosostenibile perché toglierlo? sindacati e lavoratori chiedono un incontro urgente con i vertici AMTS e amministrazione nonché la concertazione tra i mobility manager delle aziende e ci si prepara anche a una raccolta firme non riusciamo a capire come il comune AMTS in questo momento rimuove il servizio senza fare neanche una comunicazione scritta così per sentito dire attraverso gli autisti chiediamo anche a tutti i mobility manager dei vari stabilimenti del polo industriale di riunirsi e fare un tavolo di concertazione con l'AMTS e il comune di Catania dove le parti sociali possono essere soltanto un valore aggiunto affinché si trova una soluzione definitiva a questo problema lavoratori che evidenziano come sia sempre una questione di risorse non pensano mai agli interessi degli utenti è inconcepibile che oggi qui con un pacchetto di aziende alla zona industriale e con Catania che è un cantiere aperto non ci siano i fondi per gestire un servizio così semplice e fruibile per tutti i lavoratori della zona industriale a Modica l'assessor Antoci interviene sui cantieri 5G prima la mobilitazione popolare poi il silenzio l'attesa e la fiducia nella giustizia da una parte e nell'operato dei soggetti coinvolti dall'altra a Modica però non si dimentica l'invasione dei cantieri 5G e i residenti dei luoghi coinvolti chiedono di conoscere l'iter a contrasto dell'installazione nelle zone ampiamente antropizzate era nato anche un comitato oggi la realizzazione degli impianti è ferma a spiegare quanto sta accadendo e gli obiettivi da raggiungere l'assessore Tino Antoci è pendente un ricorso al TAR che riguarda Peppino Impastato ma siccome la tipologia delle antenne nel centro abitato del quartiere Sorda è identica un po' per tutte le situazioni diciamo che noi sulla scorta del ricorso al TAR abbiamo bloccato tutti i cantieri che riguardavano il quartiere Sorda praticamente è passato il principio che tutti i cantieri sono passati col silenzio assenso quando non è stato così ma è stato un solo cantiere e un solo progetto e diciamo che è stato in un periodo anche nel quale c'è stato il passaggio dalle posizioni organizzative ai dirigenti e quindi sono cambiati anche tutti gli indirizzi PEC dove venivano trasmessi i documenti e quindi diciamo che è stato solo un cantiere solo un progetto da lì intanto l'amministrazione ha preso un ufficio ha preso un personale e l'ha dedicato solo per queste pratiche di SUAP perché poi ormai si tratta di pratiche SUAP e quindi c'è massima attenzione su tutte queste PEC che arrivano e vi posso assicurare che ne arrivano giornalmente perché la ditta mi prendo la responsabilità di quello che dico cerca con i scamotaggi furbescamente di presentare altri progetti e devo ringraziare i dipendenti comunali che su questo hanno imparato la lezione e oggi hanno un occhio vigile su questa su questa problematica Oggi i maturandi hanno affrontato la seconda prova scritta Greco liceo classico assente dal 2010 torna Platone l'autore della versione sottoposta ai maturandi per la seconda prova il testo proposto agli studenti è tratto dall'opera minossio della legge agli studenti del liceo scientifico che devono misurarsi con la prova di matematica sono stati sottoposti due problemi e otto quesiti con una serie di prove di geometria equazioni e funzioni al liceo di scienze umane la seconda prova della maturità verte sull'interazione attiva nell'ambiente educativo sulla base della scuola proposta da Maria Montessori e quella di John Dewey teoria analisi e composizione per il liceo musicale spagnolo liceo linguistico tecniche della danza per il liceo coreutico nell'istituto di tecnici economia aziendale per l'indirizzo amministrazione finanza e marketing economia aziendale geopolitica nell'articolazione relazioni internazionali per il marketing e i discimini turistiche aziendali per l'indirizzo turismo topografia per l'indirizzo costruzione ambiente e territorio sistemi a reti per entrambe le articolazioni dell'indirizzo informatica e telecomunicazioni progettazione multimediale nell'indirizzo grafica e comunicazione trasformazione dei prodotti per l'articolazione produzione e trasformazioni degli istituti agrari viticoltura difesa della vita per l'articolazione viticoltura ed enologia le caratteristiche della proprietà dei materiali utilizzati nei processi produttivi e le tecnologie tecniche per la lavorazione dei prodotti sono al centro della prova degli istituti professionali con il nuovo ordinamento sistemi a reti istituti tecnico informatico e sentiamo cosa ne pensano gli studenti su quanto affrontato questa mattina tra ansia e sicurezza preparazione ed incertezza la seconda prova degli esami di stato va in archivio torna Platone dopo dieci anni come è andata? male come male? penso male non lo so poi vedremo per te invece come pensi sia andata? era difficile comunque perché non uscivo Platone da troppo tempo quindi non lo sappiamo vediamo speriamo bene sei la prima a terminare come è andata la seconda prova? tutto a posto è andata bene credo che emozione hai provato? all'inizio era un po' titubante però comunque gli esercizi sono venuti matematica? sì la temevi? non tantissimo in realtà ero tranquilla bene è uscita la la pod de story quindi siamo god daddy tutti io sono del liceo delle scienze umane quindi era quotata diciamo bene bene siamo soddisfattissimi delle tracce che sono uscite quindi speriamo bene linguistico fatto spagnolo è la prima volta che è uscito spagnolo in 30 anni credo 35 anni è andata bene era più facile del previsto sì sistema informativo aziendale economia aziendale quindi economia aziendale sì ne abbiamo fatti di più semplici in classe però dai è andata questo è andata complessa questa seconda prova economia aziendale anche per te economia aziendale anche per me sì un pochettino complessa però dai mi aspettavo anche peggio quindi speriamo bene adesso l'orale sì pronta l'orale eh diciamo sì gli orali settimana prossima sì martedì vediamo speriamo bene e non ci sono ulteriori aggiornamenti con questo servizio termina questa edizione di mtg grazie per averci seguito e buon pomeriggio a Autore dei sorrisi